Lei dice grazie, che cazzo me ne frega a me? Mica sono alla fate bene fratelli io, no? Non sono mica alla fate bene fratelli che devo prendermi una persona piena di problemi. Già la vita è complicata per i cazzi suoi, già la vita è complicata per i cazzi suoi, ma che cazzo te lo fa fare? Poi ci sarà quello che va alla ricerca, va alle brosare a trovare la cosa, no? Madre Teresa di Calcutta però li aiutava ma non ci si fidanzava mica, no? Poi ognuno per me fa che cazzo vuole, no? Ognuno per me fa che cazzo vuole, però se voi mettete sto vincolo è più facile che le persone si levino dai coglioni, è più facile che le persone si levino dai coglioni, fate che cazzo volete, però è difficile, no? Cioè è difficile, è come dire, ognuno fa che cazzo vuole, ma non è una paura, ma che paura, ma non è una paura, ma che paura è, ma non è assolutamente una paura, anzi alcune paure sono sane, non è una paura di avere a che fare con una persona che ha problemi, è come dire, ma anche una persona disabile, nulla contro i disabili, è, cioè per carità nulla contro i disabili, ma se tu hai una relazione con una persona, mettiamo non vedente per dire, beh non sarà mica facile la vita, oppure una persona che sta sulla carrozzina, per carità è giusto, ma infatti è molto più difficile per questa tipologia di persone trovare un compagno, una compagna, ma nulla contro per carità, io anzi gli auguro di trovare il meglio a tutti, però è ovvio che se le cose, se tu dici le cose quando potresti evitare di dirle, è ovvio che se uno è cieco, non ci vede, non vedente, non è che puoi evitare di dire solo non vedente, perché non vedrà, come dire, no? Ma alcune cose secondo me vanno evitate, primo per una motivazione di privacy che sono cose tue, Pippo dice, io non prendo in considerazione chi è in carrozzina, ma sì, ma è giusto, ma è giusto, cioè non è che è giusto che tu lo fai, e purtroppo è un dato di fatto, no? Per interagire in modo più profondo, cara stella notturna, fai l'abbonamento, segui, ecco, fate l'abbonamento, se volete interagire in maniera più profonda, fate l'abbonamento e seguite i seminari, seguite i seminari. Poi ripeto, ognuno fa che cazzo vuole, però certo che se io vado da una donna e gli dico, ah sai, guarda, stasera ho dimenticato di prendere le pastiglie, quindi potrei avere delle relazioni strane, certo, anche quella se ne va, diciamo, fa solo che bene fondamentalmente, no? Se ne va e fa solo che bene e non mi pigli in considerazione, fa solo che bene, e questo è il concetto di fondo, eh, cioè, però noi abbiamo delle strategie, no? La PNL ci dà delle strategie per superare questo impasse, la PNL ci dice, ci dice, ci dà delle strategie per superare questo impasse, ci dà delle strategie per superare questo impasse, ed è una cosa importante. Quindi, ad esempio, un'altra tecnica della PNL, dicevamo il reframing, no? Il reincorniciamento, quindi possiamo utilizzare il reincorniciamento per ottenere qualcosa, ma l'anchoring, il reincorniciamento, il linguaggio del corpo giusto, il rinforzo, saper rinforzare una persona è fondamentale, è fondamentale, e questo è un punto fondamentale. Nascondere delle patologie gravi non è corretto, ma dipende, non è corretto, non è che tu quando conosci una persona è appena conosciuta, devi dire chi cazzo sei tutta la tua vita, no? Secondo me, poi è ovvio che quando una volta hai acquisito potenziale, noi dobbiamo fare dichiarazioni all'interno del potenziale, ad esempio. Beh, ad esempio, l'endometro... Comunque, ognuno, insomma, può dire quello che cazzo vuole, fondamentalmente. Ma anche per gli uomini, no? Se un uomo è impotente, beh, come dire, facciamo l'esempio di un impotente. Prima di dire che è impotente, potrebbe dirlo, però, insomma, se riesce a far innamorare, magari non accetta. Quindi il concetto di fondo qual è? Che se voi acquisite potenziale, se voi acquisite potenziale, la persona poi è libera di accettare le cose. Cioè, è più probabile che accetti. Il potenziale è quello su cui dobbiamo puntare, no? Il potenziale...